Welcome back guys in a new video ormai questa intro mi sta piacendo sempre di più fare finta di sapere l'inglese oggi ci troviamo nei pressi di short france a francia corta con un veicolo particolare adesso ve lo presentiamo in nella nostra solita maniera dalle prime impressioni io mi sono reso conto che sarà l'auto veloce che abbia mai guidato addirittura la più veloce si perché ha una trazione aerodinamica che ti tiene attaccato a terra e quindi perde pochissima trazione in accelerazione tanto che fa 0-100 in 2.9 e con 720 cavalli vorrei anche ben vedere pensa talmente veloce che non me ne sono neanche accorta siamo arrivati già a parigi siamo a parigi bene ora andiamo a provare questi 770 Nm di coppia sviluppati da questi due turbocompressori grossi così che fischiano come delle bestie ma oggi facciamo una cosa particolare diversa dal solito il test drive verrà diviso in due sezioni uno sarà un test drive civile dove guiderà per la prima volta Gini from the lakes dopodiché andiamo on the track in pista a tirarla come pazzariella come si deve ci vediamo inside the car vcine 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 beh raga primo test drive con Gini from the lakes che guida la 720 s è una delle auto più performanti sul mercato di tutti i tempi in quanto hanno studiato un'aerodinamica e uno chassis esageratamente performante. Nel momento devo dire che la prima impressione è sicuramente di un'auto dall'assetto sportivo quindi rigido al punto giusto ma anche confortevole. Sono davvero comodo, c'è un sacco di alcantara, un sacco di carbonio. Potrei affrontare anche un viaggio, non hai la tipica auto sportiva. Però con l'aria, perché senza aria il viaggio non lo riusciamo a farlo. Dopo 20 km sei distrutto. No, io penso che l'impressione è ottima anche per un viaggio. Bellissimo. Sto già fremendo, non vedo l'ora di guidarla anch'io in pista. Ecco, il freno è veramente duro. Adesso è la prima volta che lo devo toccare un po' forte e bisogna andare fino in fondo per frenare. Perché ha sui carbon ceramica e quest'auto è un'auto che frena in modo serio e non ha sui carbon ceramica come optional e basta. Quindi ha bisogno di una forza frenante. Anche il volante è toccoso, è bello. Il volante è piccolino. La cosa stupenda che ho notato prima, se guardi, quando cambi col volante, la paletta è una sola. Tieni le mani su una paletta e cambia con questa. Senti che ti tira anche l'altra. È un pezzo unico. Come nelle vere auto da corsa. È una leva unica. Dopo la facciamo cantare un filino. Cosa dici? Adesso stiamo andando, il problema di quest'auto è che è davvero bassa, ha la funzione lift per quando vai sotto i 40 km orari che ti dà, ti alza il muso di un tot di centimetri per non sfondare i paraurti sui dossi e sui buchi. Sopra i 40 km orari la macchina torna in posizione originale quindi non c'è più niente da fare. Se vai forte sui buchi subisci le conseguenze. Quindi ora stiamo andando a cercare, grazie al nostro amico Ga, che ci sta guidando, per cercare un paio di strade pulite dove si possa un po' scannare. È un local. Raccontami qualcosa su quest'auto che io devo dirti la verità di McLaren purtroppo me ne intendo poco fino adesso. Quindi ho bisogno di delle migliorazioni. Allora, questo veicolo qua, pronto? Schiaccia, caspuno così, lo puoi schiacciare seriamente. Eh vabbè, fatemi prendere un po' la mano. Adesso stiamo andando a 10 all'ora. In questo momento ci sono tre configurazioni di setup di elettronica e di prestazioni che sono queste tre che tu puoi attivare cliccando active, dopodiché metti la manetta su quello che vuoi. Quando metti track lui fa così, si abbassa lo schermino, sparisce il navigatore e ti dice soltanto marcia, giri del motore e velocità attuale. Questi sono i controlli che oggi non tocchiamo e l'aerodinamica che avete visto si è appena attivata sul posteriore. Dicevo che ormai è troppo tempo che sto guidando soltanto Silverado e Tao, quindi adesso sono un po' arrugginita. Ancora per poco ragazzi, quelli che di voi ci seguono sul canale Twitch Fede Perlam sanno in anteprima che auto sta arrivando in famiglia Perlam. Quindi ancora per poco poi arriverà un'auto che dà del filo da torcere a tantissime supercar, ovviamente non a questo tipo di supercar, ma a parecchie. Vi ricordo che stiamo finendo le t-shirt sul sito fuel milan.com, comprando una t-shirt si può vincere una pit bike esagerata, tutta customizzata a fuel. Nel precedente contest abbiamo regalato uno scooter booster, in questa regaliamo una pit bike. Comunque davvero comoda, sedili spaziali, il climatizzatore funziona come raramente funziona nelle auto da corsa. Il cambio è davvero veloce, è incredibile. L'auto se non la prenda su di giri e vai tranquillo, modalità comfort, non è rumorosa. È molto bella questa possibilità di separare totalmente l'assetto corsa dall'assetto quotidiano. Il cambio automatico ti cambia le marce rapidamente, te le mette subito alte per non consumare o per comunque non avere una macchina che fa un gran baccano anche nell'utilizzo quotidiano. Se invece tu metti in trac e cominci a usare le padalle sul cambio. E' troppo bello quando scali, quando stai andando a una certa velocità e poi... Ma senti cosa fischiano le turbine adesso. Che roba. Appena puoi ridagli un colpo di... Ti prego, troppo godere. Ti dà proprio una sensazione qua alla bocca dello stomaco. Farfalle dello stomaco, si chiama amore, si chiama amore, si chiama amore nei miei confronti. Si chiamano farfalle dello stomaco un piano. Qua alziamo. Vai. Ok. Hai visto il lift come salva, vai destra. Indolore. Il lift è incredibile, destra. Cazzo, poi il giorno è esagerato oggi perché c'è la possibilità di provarla anche in pista con l'evento di Revolution Drive. Quindi abbiamo la possibilità davvero di capire per cosa è stata costruita quest'auto. Oltre alla capacità di farti impazzire quando la guardi... È il cuore di soddisfazione. Bello, eh? Wow. Vai, vai, vai. Senza di turbine. Ma il suo volante lo sentite nel segnato il rappelino? Ah, è no. 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 Che divertente, Rodrigo. Genie, sensazioni del veicolo in tre parole. Incredibile. Ti lascia proprio incollato così a sedia, ti dà un colpo di frusta quando acceleri. Io non ho neanche accelerato proprio tu. Tre parole. Abbiamo usato un po' di più. È incredibile, eccezionale e emozionante. Bene, raga, ora il test drive da civile l'abbiamo fatto. Ora siamo a Franciacorta, indovinate perché? Perché entriamo on the track, in pista, a testare il veicolo per ciò che è stato costruito. Adesso è il tuo momento di divertirti. Che era anche ora, raga. Ci vediamo inside the track. So, anzi. Con il mio casco d'Harley Davidson. Eh, quasi da rally. Destra 4, sinistra 5, il muro. Mauro. Mauro. No, no. Si sente meglio. Bravissimo. La 720 riesce comunque a far divertire anche se sono inseriti. in questo video. Non ci fanno il trail davvero? Si. Si. Ancora? Ma è un'auto in trail? No? Non. Ma è tutto il condizionatore, almeno abbiamo il potere. 2 cavalli più raga la borsetta tu in pista un sguardo spiritato vabbè c'è a dire che almeno distratto ce l'è guarda quella raga volete sapere l'emozione più bella di questa auto qual è? che è il cambio manuale cazzo un cambio manuale di quelli di esagerati ragazzi c'è più radica qui dentro che a Buckingham Palace uomo pazzarielle proprio questa che auto è? Maserati Givi 1993 prima serie senza ABS due turbine nuove va come un treno non c'è bisogno neanche di tirarla al limite è talmente emozionante guidarla pezzo del passato attenzione Pappalardo si infila come un pazzarello Adriano senza ritegno raga hotlab Franciacorta Nissan Ceed S14 motore V8 LS1 turbo compresso turbo compresso per dei cavalli di la verità è un signore dice 500 che sennò poi cominciate a scrivere non è vero ci va è vero che sennò che sennò e che sennò che sennò è vero è vero che sennò è vero dare un calcio alla prezione a quella velocità si vanno due coglioni così mi dico ma è una bestia che la so allora hai capito ditto calcio eh lo so immaginavo infatti esagerato bene raga questa giornata è stata assai divertente abbiamo provato alla fine una marea di auto oltre alla 720S ovviamente la 720S mi ha lasciato esagerato perché va davvero troppo forte però di la verità qual è stata l'emozione più grande della giornata oggi ovviamente il Silberado il Silberado tra l'altro si comporta da dio in pista come avete visto voi cioè vabbè mazzera 100 in 4 giorni però entravi forte in curva partiva bene di traverso con il gas giusto rimaneva di traverso adesso una piccola vacanza per il Silberado ora il Silberado va a demolire noi andiamo a cena con i ragazzi di Revolution fateci sapere nei commenti se volete vedere Gini un'altra volta al volante in the next test drives altrimenti scrivete no e lei non guiderà mai più mi la pagherete ci vediamo nel prossimo video state calmi il fade out dei video tipo dei film quelli anni 90 lui si le va tipo vi presento Joe Black che c'era che c'era è un attimo che c'era Grazie a tutti. Grazie a tutti.